Siamo con una signora che vive qui in zona stazione e le chiediamo cosa ne pensa di questa ordinanza del no appunto da parte del nuovo sindaco Bitonci e l'ordinanza che vietava la vendita di alcolici in zona stazione e anche poi estesa a Piazzale Mazzini. Cosa ne pensa? Io sono d'accordo che venga ripristinato tutto come prima perché giustamente pagando le tasse questi negozi è giusto che ci siano la polizia, i vigili che stiano attenti loro a quelli che comprano, che si ubriacano ma noi cittadini potremmo essere liberi ad andarci a comprare una birra, una bottiglia di vino o qualcosa. Non capisco perché. Questa è un'ordinanza che mi pare che il nuovo sindaco ha fatto benissimo. Infatti secondo lei mancavano i controlli in questa zona più che altro? No signorina, parecchio. Era cambiato tutto. Noi speriamo veramente che le cose qui da noi in tutta la città di Padova che è stato un degrado continuo, le cose cambino un po' perché veramente qui non riusciamo più a vivere a Padova. Abbiamo paura di tutto anche perché hanno fatto di quelle cose paurose. Qui in Piazzale Stazione noi abbiamo avuto per anni, anni, un cantiere a cielo aperto disfa e ridisfa, disfa e ridisfa, compresi anche gli tassisti, i poveretti che non ne potevano più. Gli hanno fatto una pensilina che dovrebbe fare ombra secondo la vecchia amministrazione e invece se voi passate lì vicino ai tassisti vedete che quella pensilina di vetro fa un caldo da crepare. Ecco, anche loro giustamente sperano tanto che le cose vengano cambiate.